Abbiamo accumulato un po' di tappi di sughero, perché? Perché abbiamo bevuto mica male. E uno dice, beh, li butto, li butto nell'umido, li brucio, non fatelo. Il sughero è un materiale molto importante, le foreste, i boschi di sughere stanno arrivando alla loro fine ed è molto faticoso, è difficile raccogliere il sughero e lavorarlo. È un materiale molto importante, anche come isolante, per cui non buttate i tappi di sughero. Ci sono dei posti che li riciclano, che li raccoglono. Per esempio, Natura sì, ma ce ne sono altri. Noi ne raccogliamo un po', non rinunciamo a sgargarozzare, però poi li ricicliamo. È importante, niente va buttato. Sughero.